Ok! Ah, siamo partiti! Ah, ciao Lorenzi Bulli! E io sono Criccrisi TV con Lore! Buongiorno, buonasera, dipenderà quando lo guardate. Poi, il nostro caro Bullo delle patatine! Ma... vabbè, ciao! E il nostro Mojito, che gioca! No, non gioco, sono assistenti di regia. Ma no, era per un modo di dire, play e giocare, Mojito è Mojito, Mojito che gioca, no? E io Criccrisi TV con... Io sono in TV! Ciao, mamma, sono in TV! E cosa facciamo oggi? Oggi sblocchiamo... Logan! Ah, sto andando più giù, più giù! No, 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 se vieni su, dove vai? Sparici! Prima missione che ho letto, atterrate a conchiglia pelosa. Cosa hai detto? Lo ripeti? Cosa hai detto? E fate... E arrivate tra i primi 25! Perché pelosa? E come si chiama? Squalosa! Ah, squalosa, scusate! Mi sono sbagliato! Siamo seri, allora, atterriamo a conchiglia, come si chiama? Squalosa! Squalosa, dove c'è lo squalo! E poi dovete arrivare, ovviamente, come ho letto, nelle istruzioni, nella top 25 per fare la prima missione! Ma tu sei ancora un bambino che ti leggi le istruzioni! Sono un abbo reale, è diverso! Ah! Sono un abbo reale, è diverso! Ah, intanto, naturalmente, vi ricordo, ma già lo sapete, chi non lo sa, usi il codice playmonito nel negozio oggetti, quando shoppate, così sostenete il nostro canale! Vi volevo raccontare un TikTok! Oh, oh, oh! È pazzoca bende! Ti serve, ti serve, per curare! Ok! Così magari fai la missione! C'è gente laggiù? Eh, infatti... Siete atterrati nel posto giusto? Eh, sì, sì! Oh, ma mi sembrava un fantasma, non era nulla! Ho chiedo Diego, ciao Diego! Io odio questi fantasmi! Disturbano la partita! Sì, infatti... Qualcuno può perdere un po' di danno? Almeno lo inizio a curare! Eh, lo perdo io! Perdi danno, guff! Ok, questo è il massimo che ti posso dare! Ah, sei già 108, 108! Oh, correte subito a Pantano! Dovete andare a fare le kill veloci! Prendete una macchina, un mezzo, un elicottero, un aereo, una mongolfiera! Eh, ma non è andata fatta della mano! Eh, vabbè, dovete andare! E poi trovate anche delle granate, quelle repulsore! Cosa hai detto? No, ripeti! Cosa hai detto? Dai a Pantano, veloci! Che poi passa il tempo! Ah, ormai non ci arrivate più! L'altra missioni come sono? Quelle di curare e quelle delle granate repulsore! Allora cura i compagni, dai! Eh, ma non si fanno perdere vita! Io mi porto vita! No, perché ti sei mostro? Zero ora! Quanto manca? 198, 99! Uh, le fanno ancora 200! 100! No! Quanto fa 400 meno 199? Scrivetelo nei commenti! Eh, ci so vengono! Nei commenti, scrivetelo nei commenti! Ah, 400! Meno 199! Eh, vabbè, qui ci sono un botte di riporti! No, no, è facile! È facile! Non ci pensiamo più! È pensiamola perdita! Ottima idea! Andate a cercare le granate repulsore! 614! Dai, cura di più! Siete il dominio di noi! Cosa fate da Dune? Cosa fate da Dune? Non lo salutiamo! Non ho capito, ma vabbè, dove è Guff? Eh, sono qui! Tu sei! Ma non è già per te il cavo di Dune! No! Perché Dune? No, quello non è un fantasma! È posseduta! È una macchina posseduta! Cri, qui! Ho per te il cavo! Ma perché io l'ho già fatta quella missione? E vabbè! Ok! Ci sono fantasmi! Arriva! Dov'è il Guff? Sono qua! Buongiorno! Ma c'è gente da voi o li avete chiedi tutti? Gente! C'è uno lì per terra! C'è un fantasmino! C'è un fantasmino! Andiamo al KV! 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 Oh! Oh! Oh, me l'ho scommato! Ok, hai trovato! Ma cosa hai trovato? Eh, le granate! Quante ne hai? Due! Dovresti fare tre repulsioni verso i nemici! Ne hai solo due! Vabbè, qui inizia a fare queste due! Almeno iniziamo da qualcosa! Allora, recapitolando! Le missioni che abbiamo in corso, almeno facciamo il punto della situazione! Servono due missioni! Una che siamo tentati di fare è entrare nella top 25 dopo essere atterrati a conchiglia ramosa! Cosa hai detto? No, ripeti? Cosa hai detto? Qualosa! Far saltare con le bombe repulsore tra i nemici! Tu perde adesso danno! Oppure curare fino a 400 punti i compagni col bazooka che stiamo tentando di farlo! Ma quanti fantasmi ci sono? Mamma mia! Eh... Non mi dico! Giocare in singolo come faccio io, poi i fantasmi è impossibile! Oh! Oh! Cos'è? Oh, Shulk è mio! Cos'è? Eh, se ne ha perso il pesciolino! Che cos'è? Shulk! E ma cos'è di po' Ahem! Raga, volete prendere ancora danno che uno o due? Che Hulk non è mai... Ma l'hanno messo nel nuovo aggiornamento allora! Eh, sì, perché io ti ho trovato che non l'ho trovato! Quanto sono? 360! Dai, dai, che ce la fai, ce la fai! Sì, ce la faccio! Ce la facciamo a sbloccare Logan! Ho quel dire, ma io ho la spossa di Gendale! Ok, va bene! Attenzione! No! Fantasma! Inerra, Raffael! 127! Ok, ancora uno! No! Cosa, no? Ma no! Che p***o! Vabbè, adesso me la dovrei fare... Oh, fermo! Dai, ne hai uno, ne hai uno! Ah, mi cura il t***o! Ok... Ancora manca un po'. 75! Manca 25 punti di bendamento, chiamiamolo così, di curamento. Bolo, fermo! 96! Dai, l'ultimo! Ok! Ok, 50.000 P.E. Adesso è sufficiente arrivare nella top 25, che mi sa... Ci siete già! Ah, lei è presa! Ci ha preso il potere di... Eh, lo fai, già preso! 3, 4... Ci siete già? Siamo già nella top 25! 5, 5, 5, 23 punti di po'. E allora che ci resta a fare? Vittoria reale! E poi andiamo... E poi andiamo a sbloccare... Oh, sono, 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 sono! Crinillo! L'ha detto! Ragno, ragno! Brutto me l'ha detto! Signorate! Ho ragnato! Ragnato! Vieni qui! È morto! Non c'è più! Scusami! C'è un ragno, ragno! Cosa? Che potere di sciolk? Trasformatevi, trasformatevi tutti e tre scagnozzi, dai! Perché adesso fate finta di essere scagnozzi... La squadra scagnozza, squadra scagnozza! Ehm, ce l'hanno il pompa, il pompa normale... Uè! Uu, so è! Uu, eda! Il non so è! Ecco, parlate scagnozzzi, da scagnozzzi, come si fa? Uè! Ua, so è! Ma perché non è la mia stessa casa? Ce lo devo essere solo io! Uè, ta! Isassata! Haiia chusa! Uè, il non so io! Haiia chusa! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uida, dada il super sei io! Aiui, uru, uru, uru! Uì! Uru, 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 uru! Uru, uru! Uru, uru, uru! Uru, uru, uru! Uru, uru, uru! Uru, uru! Non ce l'hai riconosciuto! Uru, uru! Uru, uru! Uru, uru! Uru, uru! Uru, uru, uru! Guarda, ce ne scappano questi! Guarda, che codardi... ... Uru! Oh, codardo, venite qua! Vi do i punti in faccio se non venite qua! Cosa hai detto? No, ripeti? Cosa hai detto? Oh, guaglio Che ma sta facendo? Wow, what's that? Ma che cazzo? Dove? Dove? E' meno roti sti fantasmini Puni contro puni? Vuoi fare puni contro puni? Puni contro puni? Sai che vince? Puni contro puni! Guarda come scappa Chi è c'è? Con la bomba messica di Dottor Gio No, io uccido uno che sta correndo da 5 ore Wow, what's that? 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 16 persone e 8 statati C'è gente Oh, c'è gente, eh, non pu'è dire C'è gente anche dietro E mi ha un scolo Ucciso Un altro minacolo Un altro minacolo E non ci dà puni? Ciao, guaglio Sì ma è così si dottina Sì Il rispinto a uno Rispinge avversario Ne mancherebbe uno Ah, ce l'è ancora le granate respingitore E basta No, allora è andato Cura loro, cura loro La seconda volta che mi si chiude Ma c'è gufo qua Ma c'è gufo con la gulla Ciao guzzo Sì Arriva Cosa ti urli? Cosa ti urli? Io ho solo più una granata onda d'urto Oggi no, ho paura di andare C'è di una volta No, l'ho stato malissimo No Vabbè, tanto Siamo nella top 25 Abbiamo già fatto due missioni Eh, ma me ne mancava una Muori? Nicolina? Me ne mancava una Oh, guarda che c'è qua Le scopre Le scopre Le scopre forno E anche le artiglie di Wolverine Tutto Dove sono le scopre? Ah, sto cosa Tommy? La Tommy gun Muori Allora, Tommy Ah, è tutto, ma Sì, ma ho ma te Ho ma te Ti prendi tutto Cos'è, un mega zaino? Non c'è sta tutto nello zaino Eh, certo Non c'è sta tutto nello zaino Non c'è sta tutto nello zaino WhatsApp, WhatsApp, Instagram Ehi Ma perché dovevo parlare in napoletese? Napoletese Napoletani Ma Eccolo Attivi di Wolverine Attenzione Con Wolverine Sti fantani Ma è venito quello Aiuto Oh ma c'è un'altra Si sta mangiando Si sta mangiando il lui Si è mangiato gli artigli? No, ce li ho io Si è mangiato gli pugni Si è mangiato qualcosa Si è mangiato i popcorn 12 12 12 12 Scappa Oh, voglio, perché mi scappa? Perché ha paura Perché ha paura Ha paura Oddio Oddio No Aiuto Allora, quant'è morto? No Oddio ragazzi Non ti hanno curato Non ti hanno curato Ma è un fantasma Ma Ah 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 Non ci venirei ad uccidere Non ci venirei ad uccidere Siete morti Siete morti? No No, non ci venirei ad uccidere Ah, non siete morti? No, non attaccarli No Lascia vincere Oh, però ce lo devi dire Ci sei Perché se no Se ci diamo No, no, no No, dai, ti prego Sono io Questo Sono io Questo E' Cri E' Cri E' Cri E' Allora Sei contro di noi Stai con noi Ma io ho visto una partita Dove sopra i fantasmi C'era il nome Oh Ah, no Questo c'è tu Quello è un mio amico Questo chi è? Questo 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 Non ci capisco Nulla Era Miss Robin Chi siete voi due? Sono Robin Bax Eh Ah, siete voi Siete voi Ok Amici Amici Sì Questo No, non sono io Ma Io non sto qui Io sono io No, quello davanti a voi Sono io Cri Poi nascosti Mettiti nell'auto Possiedi un'auto Così sanno che l'auto sei tu Otti Quello nell'auto è Cri Ciao Ma come lo scopa? Non potete entrare? Oh Eh, no Allora vado Ciao Ma Ciao A me lo sappiamo Ah, ma siete due voi due Ciao ragazzi Come state? Sì Ciao 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 Vieni qua Batte cinque No, io volevo fare l'incubo Non l'ho mai fatta Ma come non l'ho mai fatta Non l'ho mai fatta Neanche una vittoria reale Tom, ma niente questa Da come la Thompson No Quella poi in grassi Siete rimasti solo voi due Ma te in macchina Eh, un mio amico Uccidateli 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 Ahia No, io no Io no Vi prego Ma chi sei? Eh, io sono Sto mangiando Io sto mangiando Stai mangiando? Sei in macchina No, ti pensi a mangiare Oh, vedo guf Uccidate il guf No Uccidate No Uccidete il guf Uccidete il guf No, dai No Oh, questo te lo prendi Lo sta seguendo Oh, dai Uccidate Noi, guf Devi sopra Eh, sui noia Ma sento una voce strana È sopra Guarda qui Ma che fifone Ma che fifone No, ma io non l'ho mai fatta Vabbè Allora, aspettiamolo Dai, ok No, no, no Fai quello che vuoi Tanto la vuoi Ma siete tutti e tre fantasmi Sì, tranne lui Uccidiamolo Uccidiamo l'Ore Uccidiamolo Sì Incubo reale Incubo reale Incubo reale Hai sbloccato Logan Con un incubo reale Ma in lobby Oh, mio Dio Il mio primo incubo reale Non l'ho mai fatta Logan Guarda Logan Guarda qui Logan Guarda qui Logan Dai, ho fatto la squadra Logan Allora, lo spero Via Squadra Logan Festeggia Halloween No, vabbè Non è sempre un po' Ma Logan Logan come ha fatto a diventare Wolverine Eh, perché nella sua pelle ha gli artigli Oh Na 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 Beba 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 Je surface C'è Ciooooo! Cosa hai detto? Lo ripeti? Cosa hai detto?